Ma lui è vero che questa è la differenza secondo me che ha fatto la differenza in positivo chi ci ha votato alle elezioni politiche ha votato anche questo, la coerenza non è definativa, la coerenza non la sanno, la coerenza è col tempo, guarda ha questo la questione della pubblica, si però come è che abbiamo preso il 25%? Perché io parlo e qualcuno parla sotto, perché abbiamo preso il 25%? Io tante volte mi sento dire adesso non andremo più in tv quindi perdiamo, però prima non andavamo in tv, cioè comunque abbiamo preso il 25%? La gente ha fatto rispondi su che cosa? Sul fatto che non si devono finanziamenti, la gente non può più di questa situazione politica e noi non sappiamo cavaltare che perché basterebbe un caso di giudizio, un caso di giudizio, un caso di giudizio, un caso di di giudizio, un caso di giudizio, un caso di giudizio, un caso di giudizio. Sì, ma scusami, è un momento storico particolare. I momenti storici non sono tutti uguali. Se tu vai, io che sento, non è un momento. No, facciamo filosofia veramente qua. Ragazzi, però scusate, come dobbiamo andare?